I giocatori della Salernitana predispongono la barriera, ma pare che adesso tutto sia pronto, ecco doppio tocco di Di Rosa, alla fine cross, colpo di testa di Puntureri e la palla termina in rete. Quando siamo giunti al quarto minuto del primo tempo, il Valdiano passa in vantaggio con un ottimo colpo di testa di Puntureri, il quale è stato ben servito da Di Rosa.